ciao questo video è stato gentilmente sponsorizzato da Yeboda sapete che io amo, amo, amo i prodotti di Yeboda per la mia skin care e oggi voglio fare con voi la mia skin care appunto serale prima di andare a dormire vi anticipo già l'offerta di oggi il mio codice sconto Chiarababble vi dà il 20% di sconto e in più sopra i 69 euro di spesa c'è il regalo la mini size del detergente viso dei Pappol Dappol io vi lascio il link di Yeboda in descrizione ovviamente e tutti appunto i dettagli, il mio codice sconto e questa offerta scade il giorno di Natale proprio il 25 di Dicembre quindi è passato come regalo di Natale per prima cosa vado a struccare il viso questo passato è uno struccante di Yeboda lo distribuisco fra le vita e lo diluisco con un po' di acqua si formerà questa cremina e adesso vado a struccare questo che insisto molto sugli occhi ma non mi brucia per nulla il secondo step della detersione vado a usare appunto il detergente viso io utilizzo questo detergente da tantissimo tempo ed è il detergente che più riesce sulla mia pelle a tenerla pulita e senza imperfezioni vado a sciacquarmi adesso vado con siero e crema nut come siero ho scelto questo che è Depurify Hero questo siero è leggermente sfogliante astringente e aiuta la rigenerazione delle cellule ultimo step di questo skin care serale abbiamo The Midnight Magic la crema notte permette di nutrire bene bene la pelle la notte e di svegliarsi con appunto il viso molto più rimpolvato e sentirete che pelle morbida al mattino dopo e sia la crema giorno che la crema notte hanno ingredienti sul waging quindi che rallentano l'invecchiamento della pelle io spero davvero che questi prodotti vi incuriosiscano e vi ricordo che fino al 25 dicembre c'è l'offerta che con il codice CHIARA PAPBOL avete il 20% di sconto più il mini PAPBOL DAPBOL in omaggio su una spesa minima di 69 euro io ringrazio ancora IEPBOLA per aver sponsorizzato questo video e passiamo al video Ciao 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 grazie di essere qui con me oggi 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 il video di stasera è un video un po' particolare ma più per me più di concetto che altro intanto intanto è il mio primo video da trentenne oggi è mezzanotte del 18 dicembre quindi è passato il mio compleanno da neanche un'ora però è stato un giorno di compleanno molto bello molto sereno molto tranquillo io sono una persona molto tranquilla non ho bisogno di chissà cosa chissà che festeggiamenti chissà che festa mi basta veramente passare del tempo con le persone a cui voglio bene e questo è proprio quanto ricorda se ti piace questo video di mettere mi piace e di lasciarmi un bel commento su quale è stata la tua parte preferita è un piccolo gesto un piccolo momento solo pochi secondi mancherò tantissimo il mio lavoro e beh a capire cosa mi piace cosa non mi piace e a migliorarmi sempre quindi grazie se la vorrei come potete notare non si vede tantissimissimo però si vede cioè non si vede bene il look finale però per quello mi dovete seguire su instagram e mi sono ho fatto un cambio look mi sono tinte i capelli più o meno questo è un po' ben intenso nel mio culo naturale ma sono tornata molto molto simile al mio colore naturale il video di oggi è un video non so se chiamarlo anche dal titolo un video che avrei fatto 5 anni fa 6 anni fa forse anche 7 anni fa sarà un video molto spontaneo fatto di trigger e di chiacchiere e di show and tell molto spontaneo molto poco programmato è difficile che arrivi un video del genere che io faccio un video del genere perché o è chiacchiere o è trigger o è show and tell o ha un argomento invece adesso mi andava di girare un video a sembrare un po' come ai vecchi tempi come ai vecchi tempi in cui appunto semplicemente prendevo il microfono e decidevo cosa fare ovviamente adesso sarebbe impensabile per me far così però ogni tantissimo ci sta come mi prendo un pennello che non che Voi se preferisco questo Appunto come mi stavo dicendo mi sono un po' persa Oggi appunto il giorno che è appena passato mettiamola così E' il giorno del mio compleanno Quindi non è oggi è stato ieri Ma è il giorno che è appena passato E se volete raccontatemi nei commenti Cosa? Se vi piace fare il giorno del vostro compleanno Se vi piace Essere in viaggio Se vi piace stare tutto facendo con gli amici Se vi piace andare a fare shopping Se vi piace Fare un'attività in particolare Non me ne frega assolutamente nulla Ci può stare E il giorno del mio compleanno Cerco di vivere un po' la mia giornata perfetta E negli ultimi anni mi è andata bene Perché è capitato sempre un momento In una giornata della settimana in cui potevo Tipo l'anno scorso era sabato Quest'anno era domenica E E e appunto oggi ho provato a passare alla mia giornata ideale e ho fatto un sacco di cose che mi piacciono prima di tutto stamattina sono andata da sola questa cosa mi piace molto, parlo da sola perché ho i miei tempi, i miei modi di farla sono andata a un mercatino dell'artigianato diciamo così c'era appunto questo evento in cui c'erano tutte queste esposizioni, queste bancarelle di small business di brand appunto di artigianato o di vintage, di moda vintage ma soprattutto artigianato per me la possibilità di poter parlare, discutere, chiedere a chi effettivamente ha pensato, costruito questo prodotto fatto con le proprie mani, con il proprio tempo, con il proprio amore, con la propria mente è un problema inestimabile mi riporta un po' forse un'altra epoca in cui era ovvio che tu compresse le cose da chi le fai prodotte e compravi la nomice dal sardo, compravi i gioielli dall'orafo, ecco, cose così e appunto ho passato diciamo un paio d'ore in questo mercatino ho comprato due cosine, anche se avrei comprato al mondo, non è vero ho comprato più di due cosine però per me, ho comprato due cosine, avrei comprato molto di più ma non mi servono così tante cose, però veramente avrei preso tantissime, tantissimi oggetti, tantissimi vestiti perché erano proprio cose belle, cose fatte bene e ho preso questa che non lo vedete ma è una maglia con le maniche molto larghe non si capisce per niente, così sembra oggettivamente un po' un pigeon, diciamo ma in realtà se vista da un outfit totale ha un senso, mi piace molto e ha una magliettina di cotone una magliettina, una maglia, un maglioncino di cotone con che mi sono già macchiata giustamente ed è appunto un piccolo brand di appigliamento, sartoria è molto semplice in realtà, è semplicissima ma morbidissima calda, corta, proprio crop top e mi piaceva perché si aveva queste maniche larghe molto larghe, molto sceniche sia è corta e io utilizzo tantissimi capi a vita alta quindi mi è comoda un capo corto e poi ho preso un altro oggettino che adesso vi faccio vedere che è dolcissimo in questa specifica bancarella nell'oggettino che vi faccio vedere avrei preso tutto semplicemente tutto non so com'è altro dirlo faccio un unboxing non so com'è l'oggettino che vi faccio vedere è una macchina er cuma vlungh io ho sono qui è questo è è sono addio come due l'a ho comprato questa tazza cerbiatto tazza renna scusate facciamo un po' di tracing tazza taino non lo so perché ha questi puntini tipici del cerbiatto poi ha appunto il musino il nasino le guanciotte le corna le orecchie le zampine e dietro ha ancora questi puntini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e la godina no, non capite non capite quante belline ce ne erano parecchie così carine c'era il brocione c'erano altri animali erano tutte di un carino che non vi dico e appunto io ho preso questa e infatti la ragazza che l'ha acquistato nel bigliettino appunto ha scritto grazie hai tra le mani un oggetto unico carinissimo vero e è realizzato interamente a mano con il tuo acquisto permette il mio piccolo progetto di crescere per evitare che il tuo pezzo possa novinarsi non lavarlo alla vostra figlia carino e no vabbè ma non capite c'era anche un vasetto in ceramica con i funghi con tipo dei funghini mamma mia era di un bello ma di un bello che vi giuro ero appunto che si stanno prendendo e ho poi detto no Chiara queste cose sono belle da prendere una alla volta per cominciare a fare un pochino di collezione quindi è bello prendere una tazza di qua una tazza di là non come puoi esagerare e questa era la mia tazza probabilmente la mia tazza invernale preferita è diventata la mia tazza invernale preferita facciamo un po' di trickers il proietti facciamo anche un po' di soffio c'è la mia malla Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Che bello che sono riuscita anche a girare un video finalmente nella mia sala con l'alberello dietro. Si vede un pochino. È praticamente l'unica parte della casa decorata. Noi non siamo soliti per ora almeno riempire la casa di decorazioni natalizie o per chissà che cosa. Però l'albero, io lo tengo tantissimo per me, l'albero è bellissimo, mi fa festa, mi fa atmosfera, queste lucine. Io lo amo e mi piace molto anche perché, non so se vedete però, qui c'è una finestra e qui c'è il balcone e sia qui sia su questa finestra sia su questa finestra si riflette l'albero. Quindi sembra che ci sia un'albero principale e poi comunque sembra che ci siano delle luci anche intorno. Cosa per me bellissima. Troppo, troppo bello. E ultima cosa che vi mostro. Un altro regalo che mi ha arrivato oggi. E poi i regali che ho ricevuto oggi. Me li farò vedere in un video a parte sul mio secondo canale che era presa. In cui unirò i regali di Natale e i regali di compleanno. Però questo ce l'ho qui, secondo me fa un bel suono e ve lo volevo mostrare. Magari qualcuno di voi lo conosce anche. E' un libro, uno e due, si chiama e ha una farfalla disegnata sopra I.Q.84 Libro uno e due, penso ci sia anche il terzo dopo. Ok, spero che questo titolo non sia... Penso sia l'autore. Ok, è tipo un thriller, un romanzo thriller. Bello. E questo è un regalato mio cugino. Appena finirò Hunger Games. Qui sono in mezzo da un po' un mesi. Anche io faccio fatica a leggere perché se leggo... Io leggo solo la serie, quando leggo la serie registra tipo 10 pagine. Per un libro per me è sempre, sempre, sempre un bel regalo. Un libro, un libro, un libro di cucina. Sarà sempre un bel regalo. Almeno per me. Non è un libro, un libro. Ok, pari, qui c'è... Passate. Qu'è? 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 e sì, io volevo mostrare che questo libro semplicemente non ha così, perché mi andava di mostrarvelo, mi andava di farvi sentire un po' di suoni facciamo un minutino di inaudible, così capito l'uomo se non ce la fia camminate all'apparenza se le trasmette comporte un po' di buone proprio il communist di un ragazzo da anche ciò che mi ha intergettore della marca più fina che ha notato il mio camionetrofoglio della femmina l'opera sveiluardo e poco troppo attenzione può riprendere le pavimento di solito e di solito la crema di navore ideologica e che ha proprio i cossecretari che la crema di solito non ciò che lo corronico il reddito e il corronico è più importante e piatta di legge delle molte e il corronico costante e che le altre persone si faranno nel mondo che si tratta con la disponibilità della nonna un po' di ricostruzione che intendo proprio la differenza la risposta potrebbe avere tra pochissimi i quali sono e pure per quelle che non è un'ideopatica non riconoscerla cioè non c'è anche un po' con qualche piccola leoponia, quindi il 926 il decenzi del sotto scritto come vibra per una grande apparecetta nel poste devo proprio proprio aspocagierate di cosa lo fa che il 1026 e il 526 del corale della prima guerra mondiale liberazione del mondo costi cozzi con il gruppo di temporari che ha scritto per il popo centrale la prima guerra mondiale le sue tecce delle ricambe un 899 dei dei polizi dei primi giorni mi ha piuttosto che era tutto il mondo in pratica, in calma, sono vermi da togliere, perché un po' mi ha piuttosto l'ultimo momento che non mi ha mai raccogliente, però nessuno sapeva che sarebbe fatto una cosa inseribile, quando lo sa, nessuno sapeva già, forse l'altro che mi ha portato in grado nei sani, a quel tempo non sapeva che sarebbe caduto, costruito la musica, a un nome immaginabili, che travesse avanti a mettere i penuli, mi ha pensato a leggere la storia. Nel 1916 ha portato l'imperatore di te, mi ha avuto un celebraio, ma un po' ne fa per cominciare una buona, poi io ti amo, vieni per permetterlo, per muovere le altre, ma grazie a te, mi ha fatto questo lavoro. Ok, io vi ringrazio di aver ascoltato questo video, un po' rambling, un po', quasi a caso veramente, mi andava proprio di fare un video del genere, trasportata, dal momento, qui per rilassarmi, qui per rilassarti, mi è piaciuto tantissimo, e ditemi se vi è piaciuto anche a voi, e perché mi piacerebbe farli più spesso questa tipologia di video, suggeritemi anche uno per questa tipologia, tipo ASMR come una volta, o non lo so, ditemi come lo chiamereste questa tipologia di video, quindi un po' vecchio stile, un po' proprio spontanissima, e fatta per godermi proprio il momento, e fare ASMR insieme, fare due chiacchiere insieme, due siano insieme, molto chill, ecco, molto tranquilla, molto tranquilla, e ditemi quindi come la chiamereste, quindi, io ho una macchina motorale che si sta scaricando, dove intanto l'altro si spegne, e mi dispiace un sacco, perché in realtà io starei ancora qui un bel po', però, io vi ringrazio di essere stati qui con me, e io penso proprio, penso proprio, penso proprio, penso proprio, 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 se aggiunta allora, ti 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 ti, a.. passare, le luci, ci 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 ci, e augurarti una buona, buona, buona notte, sogni, sogni d'oro, sogni, sogni d'oro good night, sweet dreams buenas, buenas noches dulces sueños, sueños, sueños buon nuit, buon nuit, buon nuit vede joe, je rêve, te gliel, te gliel good night, good night le canoche buonanotte i miei piccoli pasticini del cocco un bacione un abbraccio calisabera